Quando Assetto Corsa Competizione sbarcò per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One fu subito evidente il gap tecnico e contenutistico che lo divideva dalla versione PC. La potenza garantita oggi da PS5 e Xbox Series X e S ha quindi permesso agli sviluppatori di colmare quel divario, con un aggiornamento che viene inoltre reso disponibile gratuitamente per i possessori del titolo. Seguiteci, nella nostra videorecensione vi racconteremo qual è il vero potenziale su console dell'opera di Kunos Simulazioni. Acquistando Assetto Corsa Competizione per la prima volta sugli hardware di nuova generazione non troverete particolari novità in termini di contenuti. Il titolo include le sue classiche 11 piste realizzate maniacalmente e le 25 auto della categoria GT3, con gli elementi aggiuntivi rilasciati nei mesi successivi al lancio originale che dovranno essere acquistati separatamente. Il team di sviluppo ha comunque introdotto delle piccole novità, come una nuova vettura, l'amatissima BMW M4 GT3 e le ultime livree 2021. Dal punto di vista delle modalità di gioco ce n'è per tutti i gusti, con la presenza di opzioni adatte sia a chi desidera un'esperienza più leggera, sia ai puristi del sim racing. Una delle principali debolezze della versione per PS4 e Xbox One era rappresentata dalla mancanza del supporto ai 60 fotogrammi al secondo. Nella sua edizione Next Gen, Assetto Corsa Competizione sopperisce a questo difetto senza sacrificare la risoluzione 4K, Full HD nel caso di Xbox Series S. Inutile quindi dire che la resa visiva e la fluidità del gameplay abbiano beneficiato di un notevole miglioramento. Le piste, il meteodinamico e il ciclo giorno-notte godono di un salto tecnico importante e l'effetto complessivo è davvero ottimo. Tuttavia non aspettatevi i dettagli e il car porn di Gran Turismo o Forza Motorsport. Qui il comparto tecnico passa in secondo piano rispetto al modello di guida, al motore fisico e alla simulazione nuda e cruda, per un risultato comunque da premiare. Gareggiare in notturna con il meteodinamico e le prestazioni della pista che scendono parallelamente al sole che scompare all'orizzonte è un'esperienza che pochi titoli riescono a regalare. Il motore fisico riesce inoltre a ricreare egregiamente il comportamento delle vetture sull'asfalto e, rispetto alla controparte PC, gli sviluppatori hanno garantito che è stato mantenuto lo stesso livello di simulazione anche su console. È questo il vero punto di forza di un prodotto in grado di snocciolare tante soddisfazioni una volta raggiunto un buon livello di dimestichezza alla guida. L'esperienza generale è stata poi ulteriormente migliorata grazie ai caricamenti veloci consentiti dagli SSD installati nelle console di nuova generazione. Ciò nonostante, c'è però un piccolo compromesso al quale gli sviluppatori hanno dovuto sottostare, l'assenza del ray tracing. Una tecnologia che non è riuscita a debutare nemmeno sui nuovi hardware e alla quale gli autori hanno preferito la garanzia di una maggiore fluidità e risoluzione. Dal punto di vista della componente multiplayer è ora possibile gareggiare fino a un massimo di 30 giocatori in ciascuna competizione online. È stata introdotta la possibilità di creare delle lobby private, tuttavia manca il crossplay, funzione che comunque dovrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti. Per la gioia di molti, giunge anche sulle console la possibilità di cambiare il punto di vista delle varie telecamere, così da poterlo impostare in base alle proprie preferenze. Il livello di personalizzazione punta insomma a raggiungere quello disponibile su PC, anche se le console faticano a stare al passo. Non è stato ancora implementato il controllo della zona morta dei pedali, così come altre novità presenti nell'ultimissima versione per computer. È davvero un peccato non poter sfruttare i 120 fps e magari a una risoluzione inferiore per ottenere un'esperienza ancora più fluida pensata per i giocatori più esigenti. Inutile negarlo, il Racing Game di Kunos dà il meglio di sé con un volante e una pedaliera, e non serve spendere chissà quanto per un setup di guida professionale. Già con un dispositivo entry-level, infatti, la differenza rispetto al controller è abissale. Tuttavia, adesso quest'ultimo è comunque più preciso e tramite alcune facilitazioni si adatta meglio al modello di guida proposto. Impugnare il pad e scendere in pista è quindi più semplice, ma al contempo servirà tanta pratica per raggiungere i risultati migliori. Con il DualSense di PlayStation 5 il livello di immersività è stato ulteriormente ampliato, grazie al feedback aptico del controller Sony, e anche il trigger sinistro in fase di staccata regala ottime sensazioni utili a gestire bene la pressione sul pedale del freno. Assetto corsa competizione per PS5 e Xbox Series XS rende l'esperienza di guida creata da Kunos simulazioni pienamente godibile anche su console. La fluidità garantita dai 60 fps, la risoluzione 4K e qualche piccolo miglioramento tecnico fanno risplendere nuovamente questo pilastro del sim racing. Peccato non essere al cospetto di una versione definitiva del titolo sulle console di nuova generazione, con tanto di DLC e qualche inedita aggiunta. Inoltre manca ancora qualche elemento di personalizzazione disponibile su PC che non è riuscito a debuttare al lancio di questa nuova edizione. I contenuti sono rimasti pressoché invariati e iniziano a sentire il peso degli anni, nonostante le livree aggiornate. Il prezzo di 40 euro rende comunque assetto corsa competizione un must have per tutti gli amanti del genere e anche per qualche novizio, grazie alle migliorie apportate all'uso del controller. Voi cosa ne pensate? Siete pronti a tornare in pista? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!